900 faldoni e 630.000 carte sulle stragi mafiose del 1993-94 saranno digitalizzati. Nel Palazzo di Giustizia di Firenze è stato inaugurato il locale che diventerà il centro permanente di digitalizzazione degli atti processuali di interesse storico, un progetto promosso nel 2018 dalla Regione Toscana con la Procura di Firenze. È simbolico che il 27 di maggio, a 28 anni dalla strage di Via dei Georgofili, si possa inaugurare questo centro di digitalizzazione che fornisce un supporto molto importante per la conoscibilità, il mantenimento, la prospettiva di utilizzo e di semplice conoscenza degli atti processuali che ci riportano allo stragismo di quegli anni, 92-93, momento drammatico in cui la mafia si pose in contrapposizione con lo Stato nel modo più brutale. Il centro è quindi un contributo per la memoria, un aiuto per chi abbia necessità di consultare gli atti. Potranno attingervi storici, persone che comunque vorranno studiare quello che è successo in passato, ma potranno essere consultati questi atti anche a fini di sfruttamento investigativo. E poiché le indagini su questi fatti non finiscono mai, questo patrimonio sarà utilissimo anche per gli uffici requirenti, non solo di Firenze, quindi non solo la Procura di Firenze ma anche per altre procure. Saranno 18 detenuti dopo un corso di formazione a riordinare e digitalizzare i documenti, coordinati da tre archivisti professionisti.